È stato dimesso dall'ospedale Valdarnese della Gruccia e trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano il 39enne originario del Bangladesh che martedì mattina ha ucciso la sua bimba di tre anni e mezzo colpendola alla gola e al mento con un'arma artigianale con una lama di 30 centimetri. Una folla aggressione che si è consumata all'interno dell'abitazione di Levane dove l'uomo viveva con la sua famiglia da circa un anno. Il 39enne dopo il delitto aveva aggredito con la stessa arma anche l'altro figlio di 12 anni ferendolo alla testa. Il bimbo era riuscito fortunatamente a scappare dalla furia assassina del padre trincerandosi nella casa dei vicini che avevano poi lanciato l'allarme. Oggi sta meglio è ancora ricoverato nell'ospedale Valdarnese per le lesioni riportate. Con lui c'è la madre una 32enne casalinga incomprensibile stato di shock. La donna al momento del delitto non era in casa era uscita per fare la spesa. Il 39enne dopo aver ucciso la figlia e aggredito il figlio aveva infine tentato il suicidio gettandosi in un pozzo assieme all'arma del delitto. Era stato recuperato dai vigili del fuoco. L'uomo nei giorni scorsi avrebbe accusato problemi di salute, di pressione. Per lui adesso è scattato l'arresto, è accusato di omicidio e tentato omicidio aggravato dal vincolo della parentela. Nei prossimi giorni sarà sentito dal GIP. Domani sarà eseguita inoltre l'autopsia sul corpo della piccola dall'equip di medicina legale di Siena. Sul gruppo Facebook Se di Levan e Se, infine, è stata lanciata un'iniziativa per ricordare la bambina. Una candela accesa alle finestre in segno di vicinanza.